Dall'11 marzo del 2022 è disponibile su Netflix il film The Adam Project di Shawn Levy che torna a collaborare con Ryan Reynolds a distanza di pochi mesi da Free Guy, Eroe per Gioco, un film che vidi al cinema, davvero divertente, molto godibile, di cui parlai anche sul canale, nel caso non l'aveste visto recuperatevelo. Stavolta ahimè il film lo si può vedere solo in streaming, non in sala, però devo dire che Shawn Levy decide di abbracciare il cinema di fantascienza anni 80 per ragazzi e lo fa proprio bene, perché è un puro film di intrattenimento, dal finale anche agrodolce, un film che sappia far divertire ma allo stesso tempo anche far emozionare. Gli effetti visivi sono molto convincenti, si capisce che il nostro Shawn Levy voglia citare un po' il cinema che lo ha cresciuto, che lo ha appassionato, ma anche cinema della contemporaneità, non per forza anni 80, perché sì, vedendo il film non ci può non venire in mente Ritorno al Futuro, non ci può non venire in mente qualsiasi lungometraggio dove i viaggi nel tempo fossero importanti. Anche un Avengers Endgame ad un certo punto addirittura si parla di multiverso e di piani temporali in cui si creano delle diramazioni, quindi c'è proprio la citazione Avengers con Ryan Reynolds che risponde, ma quanti film hai visto? Ecco, dobbiamo dire che è come se The Adam Project fosse un po' un film degli anni 80 ma traslato, catapultato nella contemporaneità e un film che riesca a fare star bene. Io l'ho visto su Netflix, mi è dispiaciuto tantissimo il non poter andare al cinema perché mi immagino su grande schermo quanto avrebbe reso meglio e mi sono divertito sin dall'inizio con questa storia interessante in cui un piccolo dodicenne interpretato da Walker Scoble si ritrova un giorno con il sé del futuro, sì, perché di fronte a sé Adam troverà il sé stesso del futuro che viene dagli anni 50, sarebbe dovuto approdare nel 2018 ma per un problema con il jet ecco che finisce nel 2022 e quindi la missione dell'Adam più piccolo e dell'Adam più grande interpretato da Ryan Reynolds sarà quella di tornare nel 2018 per poter fermare il piano malvagio di una delle collaboratrici del padre di Adam interpretato da Mark Raffalo, morto per un incidente autostradale, che ad un certo punto nella sua vita da ingegnoso insegnante fisico era riuscito a creare la formula per i viaggi nel tempo. Questa formula era stata studiata ma lui era stato proprio il primo a veicolarla, a pensarla. Quando ovviamente nel futuro la collaboratrice storica del padre si rende conto che con questi viaggi nel tempo sarebbe potuta tornare indietro per prendersi il merito, per poter far pensare a tutti che fosse stata lei a crearli, decide quindi di tornare indietro per parlare alla sé del passato e dirle mi raccomando comportati così, così, così e così perché tanto il vero fondatore morirà e noi ci potremo appropriare di tutti i guadagni, no? Fatto sta che quindi i nostri protagonisti la dovranno fermare anche perché nel 2050 la città ricorda quella di Terminator, quindi altre citazioni, ecco che quindi la dovranno fermare, tutto il film si basa su questo. Ovviamente anche sul rapporto interpersonale tra la stessa persona che ritrovano un padre con cui nella vita sarebbero voluti stare tantissimo ma che ahimè è morto, quindi è facile completare la missione senza rivelare al padre, mi raccomando, quando sali su quella macchina stai attento perché ti potresti salvare la vita. Allo stesso tempo però se lui si salvasse la vita si scombinerebbe tutto il piano temporale perché si sa se cambia una cosa nel passato ce lo insegna a ritorno al futuro, poi tutto il futuro subirà delle modifiche, non è come in Avengers Endgame. Quindi è un film che oltre a divertire, oltre a proporre degli effetti visivi anche molto convincenti, ma questo già in Frigai Eroe per Gioco, è un film che voglia parlare anche dell'elaborazione del lutto. Attraverso il genere di riferimento, cioè la commedia fantascientifica, si vuol parlare anche di elaborazione del lutto, si vuol parlare di risolvere i propri problemi, i propri pesi interiori per migliorare il nostro domani, perché comunque in base alle nostre azioni le conseguenze del domani potrebbero essere migliori. Quindi è un film che dura circa un'ora e cinquanta, ma un'ora e cinquanta di puro intrattenimento, veramente un'ora e cinquanta godibile. Nel cast abbiamo ripeto Ryan Reynolds che tornerà ancora una volta a lavorare con Sean Levy nel futuro Deadpool perché il terzo capitolo dedicato al mercenario chiacchierone da pochi giorni è stato annunciato che sarà diretto proprio da Sean Levy. Abbiamo Mark Ruffalo che interpreta questo quadro è scomparso ma che vedremo nella seconda parte del film quando si torna indietro nel tempo perché ai tempi era ancora vivo. Ed è interessantissimo vederlo lavorare insieme con Jennifer Garner che interpreta la madre di Adam perché subito ci torna in mente trent'anni in un secondo quando i due veramente nel film stavano insieme e ci tornano in mente tanti momenti di questo passato. Quel film fu importante perché fu una prepista per le due celebrità. Poi abbiamo Zoe Saldana che interpreta l'amore del nostro Adam adulto, l'Adam che torna dal 2050 che inizialmente ritorna nel passato proprio per salvarla perché Laura forse era la prima ad essersi resa conto che Maya, la collaboratrice del padre del nostro Adam, stesse facendo qualcosa di losco per aggiudicarsi il merito e quindi l'ha inseguita nel passato però il suo oggetto è andato fuori orbita, si pensava fosse morta e quindi il nostro Adam deve tornare indietro per salvarla. Poi io non vi rivelo, non vi rivelo come il film vada a finire, le cose che vi ho detto adesso le scoprite nella prima mezz'ora di pellicola quindi cioè anche il fatto che ci siano le due persone però una più grande perché viene dal futuro e una più piccola, lo stesso Adam di due periodi temporali differenti lo scoprite anche solo leggendo la trama su Netflix quindi non sono spoiler tranquilli. Fatto sta che abbiamo da un lato Deadpool, dall'altro lato abbiamo Gamora, dall'altro lato abbiamo Hulk quindi è un po' un film che abbracci Marvel Studios, poi chissà se davvero Deadpool entrerà a far parte dell'MCU quindi si abbraccia l'MCU, si cita l'MCU, si cita Avengers Endgame, non ci può non venire in mente Ritorno al Futuro, non ci può non venire in mente ogni film anni 80, a me è venuto in mente anche Navigator, io sono cresciuto con Navigator e letteralmente mi ricordo questo bambino che su questa navicella spaziale faceva passare il tempo e poi si ritrovava in una situazione nel futuro in cui non si riusciva più a raccapezzare perché ovviamente non era abituato. Questo film è proprio il classico film di intrattenimento che fa stare bene, che riesce ad essere godibile di intrattenimento ma che allo stesso tempo anche emotivamente sa colpire perché ci sono dei momenti in cui c'è il ritrovo del padre da parte dei due figli, in realtà uno solo però l'Adam del futuro e l'Adam del passato. L'Adam del futuro ad esempio non aveva mai accettato la morte del padre quindi lo incolpava per essere morto, standoci insieme potrebbe cambiare idea, potrebbe migliorare il suo futuro, un futuro che i nostri protagonisti che poi alla fine sono la stessa persona dovranno riscrivere rischiando di mettersi contro la potenza temporale perché se non lo riscrivessero nel 2050 si ritroverebbero ad essere delle pedine nelle mani della collaboratrice storica del padre Maya che allo stesso tempo era riuscita con un esercito proprio di militari a imporre la propria diplomazia e quasi a portare avanti un regime dittatoriale. Quindi un film di fantascienza che abbracci la commedia, citazionistico, dove c'è un Ryan Reynolds in grande spolvero, dove c'è un bravo Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scoobel, veramente questo bambino che non conoscevo spero di poterlo vedere lavorare ancora in altri film perché è stato molto bravo, Sean Levy con il clima anni 80 ci sa fare, ricordiamo che ha diretto vari episodi di Stranger Things ambientato proprio in tal periodo quindi le ricrea le vibrazioni del periodo anche attraverso la musica che noi sentiamo all'interno del film, delle canzoni tra l'altro che proprio abbiamo ascoltato anche in Stranger Things in puro stile anni 80, devo dire che è un film che ha saputo coinvolgermi, che ha saputo anche emozionarmi perché proprio come accadeva in certi film negli anni 80, proprio come accadeva in quei film per ragazzi, ci viene in mente il cinema di Spielberg, ci viene in mente il cinema di Zemeckis, ci viene in mente un certo tipo di cinema di grandi maestri che il nostro Sean Levy omaggi, proprio come accadeva in molti di quei film, il finale agrodolce, c'è un lieto fine ma allo stesso tempo una lacrimuccia per i più piccoli potrebbe anche scaturire, potrebbe anche scendere, è un film con un finale che ti fa capire anche quanto sia importante elaborare la perdita, tutto ciò più volte l'abbiamo visto negli ultimi film Disney, Pixar, a me è venuto in mente Onward vedendo questo film, anche lì si parlava in quel bellissimo lungometraggio di elaborare il lutto, è qua uguale ed effettivamente devo dire che il film seppur mi sia dispiaciuto non vederlo al cinema mi abbia lasciato dentro un qualcosa di significativo perché lo rivedrò molto volentieri, insieme a Free Guy rappresentano proprio un dittico folle, un po' sopra le righe, in cui ci sono anche delle scene d'azione divertenti, ci sono delle scene nello spazio, ci sono delle scene con delle spade laser che si voglia citare Star Wars, ebbene sì è un film citazionistico da morire, per alcuni potrebbe essere anche un film troppo ripetitivo perché non vi aspettiate in questa pellicola di trovare originalità, tutte le cose che vediamo ahimè sono state già trattate, però ecco Sean Levy riesce a farle proprie, riesce a dare un'identità ad un film che comunque non sia originale, questa per me è la bravura del regista. Quindi io ve lo consiglio, si trova su Netflix, adesso farò anche una minima parte spoiler per rivelarvi anche quanto mi abbia colpito il finale, è un film molto carino, è un film sicuramente che potreste vedere in famiglia per star bene una sera e che vi regalerebbe sorrisi ma anche emozioni. Quindi fatemi sapere nel caso l'aveste visto, nel caso è su Netflix, io vi attendo nella sezione commenti qua sotto così lo possiamo commentare, vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana, ho partecipato ad un nuovo cinegiornale del mio amico Henry Cinema, vi lascio qua sotto il link e che dire, vi saluto, vi ringrazio e andiamo con una parte più rivelatrice. Dunque, ecco, alla fine si opta per distruggere questo macchinario che permetta di fare i viaggi nel tempo. Lì per lì pensavo si trovasse una soluzione diversa per far sì che comunque i viaggi nel tempo in futuro potessero essere allo stesso tempo utilizzati, che si potessero sviluppare senza il dover distruggere tutto ciò che ci fosse alla base, quindi non permettendo anche di usarli per fini benefici, però ci potrebbero essere fini benefici, alla fine se si torna indietro nel tempo si rischia solo di compromettere la linea temporale, quindi è una scelta che ricordo anche Avengers Endgame, seppur poi in Avengers Endgame il modo per muoversi nel tempo venga trovato lo stesso, dopo lo schiocco che tutto dovrebbe cambiare, ecco in questo caso no, in questo caso si distrugge il macchinario, c'è il padre che decide di unirsi al figlio piccolo e grande, quindi chiamiamoli due figli per meglio intendersi anche se sono la stessa persona, decide di unirsi, la scena all'interno dello studio del padre dove c'era il macchinario con Maya che spara e allo stesso tempo però il reattore sposta, proietta il proiettile perché risucchia il metallo e quindi colpisce la Maya del passato, quindi morendo la Maya del passato non ci sarà mai la dittatura della Maya del futuro e questa cosa è assolutamente convincente a livello anche di messa in scena perché poi è divertente i battibecchi tra Ryan Reynolds e Mark Raffalo, Mark Raffalo letteralmente è un attore che io abbraccerei perché mi ispira una simpatia e una tenerezza ma anche ripeto rivederlo con Jennifer Garner, il padre che ritrova il figlio e quindi il figlio che capisce che non deve avercela con lui se sia morto ma di godersi il più possibile quel tempo che rimanga con un padre che grazie all'insegnamento del figlio comunque capisca che in questo tempo di vita che gli resta sarebbe importante che lo trascorresse molto anche con il figlio piuttosto che pensare solo al lavoro e c'è quella scena in cui si mettono poi a giocare a giocare a baseball sul finale con il guantone con la mazza è stato veramente un finale bello perché poi il padre si volta per riprendere la palla e non ci sono più sono tornati nella loro realtà con un Adam dodicenne che abbraccerà forte la madre che aveva bisogno di affetto e che invece era sempre in discussione nella normalità con il piccolo e un Adam nel futuro più felice perché grazie a tutto ciò che è successo e a ciò che ha appreso quindi il padre che riesce a far cambiare idea al figlio ma anche un figlio che riesce a insegnare qualcosa al padre grazie a tutto ciò che ha appreso in questa esperienza che potesse risultare anche catastrofica inizialmente ecco che sarà più felice nel momento in cui rivivrà un futuro già vissuto in cui incontrerà la nostra Laura Zoe Saldana e si innamorerà di lei e i due cominceranno a vivere la loro avventura d'amore in un futuro in cui i viaggi nel tempo non esisteranno più chissà se prima o poi chi lo sa un altro scienziato chissà che prima o poi qualcuno non riesca a riportare in quella formula non si sa perché di persone intelligenti come il nostro Mark Raffalo cioè Lewis potrebbero essercene però allo stesso tempo anche Sean Levy in un'intervista ha detto di non volere seguiti e nemmeno io lo vorrei proprio come Free Guy anche The Adam Project è un film che non ha bisogno di continuazioni perché inizia e finisce autoconclusivo però lo si sa quando si parla di viaggi nel tempo di questi film poi adesso nell'epoca dei franchise a livello anche remunerativo a livello anche di pensiero basato sui soldi si potrebbe sfruttare il brand ma io mi auguro di no perché se no il tutto risulterebbe anche forzato cosa potrebbero inventare in un seguito hanno distrutto la macchina l'acceleratore di particelle del nostro Lewis che aveva creato l'hanno distrutto l'ultima copia del disco rigido per rispedirli nella loro realtà viene data dal padre al figlio poco prima che l'acceleratore di particelle venga distrutto quindi cancellano la futura Sorian la futura Maya Maya Sorian dall'esistenza e quindi boh non non penso ad un eventuale seguito come una scelta intelligente se non a livello economico e commerciale quindi questo è un po il mio parere su questo film assolutamente godibile assolutamente divertente che mi ha fatto proprio star bene che cita a destra e a manca ma che ripeto abbia una propria identità mi sono piaciuti molti momenti introspettivi dove ci si riconcilia con il padre ci si riconcilia con la madre perché è un finale agrodolce ripeto dove sì c'è un lieto fine ma dove bisogna anche lavorare un lutto dove si passa l'ultimo momento con il padre un momento desiderato da Adam sia grande che piccolo più e più volte che finalmente dopo una situazione così problematica si può rivivere sapendo che poi sarà una sensazione che se ne andrà scorrerà via perché bisognerà tornare nella propria realtà dimenticandosi quindi dimenticandosi e non potendo più vivere ciò che è successo ma facendo sì che resti impresso dentro un caro saluto ragazzi questo è il mio parere vi attendo nei commenti così anche voi potreste dirmi se vi è piaciuto vi abbraccio ciao